Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video su Runeterra. Prima di cominciare che annuncio ufficialmente che la prima card review di Runeterra ci sarà. Ci sarà, non abbiamo ancora deciso esattamente il giorno, varia tra il 26 e il 27 probabilmente, perché in realtà non sapendo ancora quando usciranno tutte quante le carte, non possiamo sapere quando farla, perché insomma vorremmo farla una volta conosciuto tutto il set. Che poi il 28 potremmo cominciare a giocare. Comunque sia, ci sarà, nei prossimi giorni verranno annunciati i miei fantastici ospiti che hanno gentilmente accettato di partecipare a questo che spero sia un modo anche di creare un po' di community intorno a questo bellissimo gioco. Detto questo, oggi non vi parlo di un mazzo, ma invece andiamo a parlare un pochettino delle spedizioni che ultimamente non ne abbiamo trattato molto. Ho trovato dei dati, cercando su Twitter, che fanno vedere delle statistiche date da un numero di partite non ampissime, qualche migliaia, ma di giocatori piuttosto competitivi all'interno della spedizione. Infatti andremo a vedere che, insomma, anche i win rate più bassi si attestano intorno al 50% a salire. Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere tutti e 24 i champion attualmente su rune terra che win rate hanno e di conseguenza analizzeremo quali sono, a livello generale, i pick più astuti da fare quando ci troviamo davanti le scelte della spedizione. Eccola qui la bottom di questa lista di 24 campioni. Andiamo subito a notare che Vladimir non solo è l'ultimo per win rate, ma soprattutto proprio non è giocato. Cioè il giocatore medio di Nunderra, anzi un giocatore abbastanza bravo in spedizione di Nunderra, proprio non picca Vladimir se non costretto con il fucile. Quindi Vladimir evidentemente è il peggior pick da tutti i punti di vista in spedizione. Seguito da Braum che invece è abbastanza piccato, ma comunque sia mantiene un win rate abbastanza basso, probabilmente proprio perché le sinergie principali sono con Vladimir, che però non funziona e quindi magari si trova anche più difficoltà a far funzionare Braum perché magari ci dà questa esca di andare a prendere Vladimir se lo troviamo nel secondo trio dopo aver scelto Braum. Dopodiché, quello che viene agli occhi soprattutto è che il primo personaggio di Demacia che troviamo è Lucian. Sotto a Lucian però vediamo che di ogni fazione ci sono almeno due champion. Questo cosa ci fa pensare, diciamo scoperte dell'acqua calda, sì in qualche modo è vero, ma se trovate tra le scelte un campione qualsiasi di Demacia, piccatelo sempre, perché attualmente in spedizione è veramente una spanna solo agli altri Demacia. Per il resto abbiamo oltre a Braum anche Anivia e Ash che stanno sotto la media, diciamo che la media si arriva intorno a Lucian e Tryndamere, che sono esattamente il taglio rispetto al top di questa lista. Anivia che sicuramente è un ottimo pezzo una volta in campo, ma che evidentemente non ha un seguito fortissimo nei pick che ci vengono offerti insieme a lei. Perché comunque sia qua si parla di giocati, quindi quante volte sono stati giocati, quante volte hanno vinto e quante volte hanno perso. Evidentemente neanche il metterlo in gioco basta Anivia per avere un buon win rate di spedizione. Poi comunque sia parliamo del 53%, però visto che questi sono giocatori molto bravi, comunque sia il 53% non è il massimo. Andando a scendere, la cosa che mi sorprende di più sono Timo e Yasuo così bassi. Timo credo sia perché viene spesso scelto senza magari riuscire poi a costruirci qualcosa sopra di interessante, perché io sono dell'idea che Timo funziona soltanto se si riesce a fare un mazzo molto aggressivo, quindi magari se poi nel secondo pick non riusciamo ad avere un'alternativa aggressiva per associarla a Timo, probabilmente perde molto. Yasuo invece credo che oltre ad essere stato scelto in generale abbastanza poco, non sia facilissimo da utilizzare e soprattutto ha bisogno di avere come alleato un qualsiasi champion di Noxus, ma senza di questa combinazione sicuramente perde tantissimo, perché poi abbiamo praticamente la metà delle carte pickabili che sinergizzano con Yasuo. Yasuo è uno di quei personaggi che se il mazzo non c'è intorno a lui, è praticamente una 4-3-4, adesso è una 4-4-4 con attacco rapido che insomma non è assolutamente un gran che. Al top di questi personaggi che abbiamo visto finora poi c'è il 2 e la Escalista, che è vero che hanno un win rate abbastanza buono per questa classifica, ma attenzione perché tutti e quattro i campioni di Isole Ombra sono in questi primi 15 champion come anche tutti quanti i campioni di Freylord lo sono. Quindi sconsiglierei se è possibile di andare a scegliere Freylord o Isole Ombra se abbiamo alternative più interessanti. Passiamo adesso alla parte superiore, a quella che ci interessa di più. Eccoli qua i nostri eroi preferiti. Allora, nelle prime 9 posizioni la prima cosa che vediamo ovviamente è che ci sono 3 eroi di Ionia, anche se non sono arrancati altissimi. Sorprendente il fatto che Shen sia il migliore dei 3, superiore soprattutto a Zed. Credo perché viene scelto tantissime volte, infatti sono 515 le partite giocate totali con Zed. E quindi insomma viene scelto no matter what, quindi magari a volte non è la giusta combinazione, ma si sceglie Zed perché è effettivamente uno dei champion più forti in spedizione. Ma a volte la sinergia magari vorrebbe qualcos'altro, invece si forza comunque Zed e magari la sua win rate scende un pochettino. Buona la win rate di Karma per essere comunque un personaggio da control, diciamo. Shen è incredibilmente molto alto, evidentemente questa combinazione con i barrier in spedizioni premia molto perché ci sono molti meno modi magari per raggirarlo o per eliminarlo prima che possa attaccare o anche magari durante l'attacco perché comunque sia il body di Shen è abbastanza resistente e riesce evidentemente ad essere efficace. Dopodiché abbiamo Lux, Fiora e Garen. Da notare che Garen è il terzo, non il primo. Prima che è Lux che di poco supera Fiora. Fiora che è sicuramente, guardando queste statistiche, in realtà il personaggio migliore da piccare in spedizioni. Perché dico questo? Perché ha 417 game giocati, quindi è secondo soltanto a Zed, ma nonostante questo mantiene un win rate da top 3. E quindi direi che Fiora, se la possiamo prendere, prendiamola sempre. Anche perché evidentemente ci dà anche altre carte buone perché ragazzi qua non stiamo soltanto scegliendo il campione. Qua stiamo scegliendo anche il pacchetto che poi ci viene offerto. Quindi evidentemente se un campione è alto qui è anche perché le carte che ci hanno dato insieme a quel campione sono molto utili in spedizione. E poi abbiamo Draven che solitario tiene in alto il nome di Noxius e non lo relega a Isole Ombra e Freylord in fondo alla classifica. Ma soprattutto Ezral e Emerdinger in prima posizione. Quindi questo build over che funziona abbastanza, ci sta perché ci sono carte come ad esempio Mystic Shot che sono molto utilizzate dappertutto e di sicura efficacia. Però insomma il fatto che Emerdinger sia il personaggio più vincente in assoluto sorprende parecchio. Soprattutto il fatto che Emerdinger e Lux insieme abbiano questo popoletto enorme fa sì che se riusciamo a prendere questa combinazione, tra l'altro sinergizza, abbiamo visto anche in Ranked, probabilmente stiamo facendo uno dei mazzi più forti in spedizione in assoluto. Ovviamente va detto che questi personaggi non sono banali da giocare, soprattutto non è banale costruirci un mazzo intorno che funzioni. Quindi il fatto che vengano giocati da questi giocatori che sono piuttosto bravi in spedizione aiuta sicuramente. Magari un giocatore neofita piuttosto di andare a prendere Emerdinger e Lux, gli consiglio a Kofiora, Shen, Draven, Garen. Questi sono molto più efficaci senza doverci costruire per forza chissà cosa intorno. Quindi, vista questa statistica, direi, se potete prendere Demacia, prendetela sempre. Dopodiché Piltover e Ionia. Piltover, soprattutto, se riusciamo a costruirci dei mazzi intorno, perché anche Ezreal ha bisogno di un mazzo per funzionare. E Draven, come seconda scelta, va quasi sempre bene in realtà, perché, abbinato a qualsiasi cosa, è un mazzo che dà una buona aggressività, ma che può, ad esempio, anche essere utile nella combo con Ezreal. E quindi, insomma, è un tuttofare che fa sì che anche Noxius possa essere piccata con un win rate piuttosto importante. Bene, ragazzi, spero che questa cosa vi sia utile. Per un paio di settimane, suppongo, perché poi cambierà tutto. Io vi rimando, come al solito, in descrizione a tutti quanti i miei link social. Su Instagram stiamo mettendo le carte, oggi metteremo quelle di Swain, man mano che escono per votarle e commentarle tutti quanti insieme. Io vi rimando a domenica ad un prossimo video e hype assoluto per l'espansione e la primissima carderio di Runeterra.